Europa America Europa Europa Metropoli Cittadina Metropoli Metropoli Napoli Houston, Texas New York Angra Centomila Bah, più o meno centomila Diecimila Troppi Un numero? Ah, secondo me vivono 4 italiani all'estero 3 milioni di italiani vivono all'estero Più di 3 milioni La città è un ambiente più stimolante rispetto a una campagna Poi questo dipende molto dall'indole di ciascuno di noi In città ci sono molte più cose da fare Dipendere Dante La curiosità è il motore di qualunque viaggio, di qualunque scoperta Posso vedere musei, posso conoscere tanta nuova gente, giovani Che insomma vengono da realtà diverse dalle mie Un viaggio attraverso la Toscana piuttosto che un viaggio in Islanda Che sono esperienze comunque bellissime Però la città è sicuramente un posto più stimolante L'idea è quella di conoscere qualcosa di diverso da quello che vivo quotidianamente E sentirmi un po' più vicino al mondo che mi circonda Ciao BoomBlog